Vicepresidente Matteo Giusti, un'altra vittoria che si aggiunge alla settima, quindi sarebbe l'ottava consecutiva in campionato più quella di Coppa in finale contro la Bucinese. Questa squadra continua a sfornare prestazioni molto positive nonostante un campo impossibile da giocare a calcio. Sì, il campo è rallentato, bisogna anche capire la situazione, insomma è stata una settimana particolare dal punto di vista meteorologico. La squadra sta andando bene, tengono alta la concentrazione, insomma quando sei a più 14 non è scontato. C'è un buon gruppo, si fanno le sostituzioni, non si nota la differenza, c'è una panchina di indubbio valore, quindi sostanzialmente ci si sta togliendo diverse soddisfazioni e sta andando tutto bene. Vedevo anche oggi gli ultra e i tifosi estremamente contenti. Ecco, te che sei, che curi diciamo i rapporti con il Comune, il Sindaco ci ha detto la scorsa settimana che il progetto per lo stadio va avanti, te cosa ci puoi dire sotto questo punto di vista? Tanto noi abbiamo fatto e stiamo facendo incontri con tutte le forze politiche che si candideranno alla guida dell'amministrazione comunale, le elezioni ci sono il 25 di maggio e tutte hanno inserito fra le priorità gli impianti sportivi e quindi la riqualificazione di questa area e lo spostamento del campo sportivo ai poggini. Quindi io penso che i prossimi due anni siano fondamentali. Sono moderatamente ottimista, anche perché se va avanti il progetto del Quality Life e riusciamo a avere tutta una serie di impianti, se ci fosse un intoppo comunque c'è un piano B che consentirà di portare velocemente l'impianto a norma per la Serie C. Ecco, ma tempistica eventualmente per la realizzazione del nuovo stadio, partendo, diciamo finito questa stagione calcistica, quanto tempo occorre per avere un impianto nuovo idoneo per giocare altre categorie? Se noi andiamo a costruire lo stadio nel corso della prossima stagione 7-8 mesi ci vogliono tutti perché il terreno da gioco sia pronto e poi altri mesi per finire il contorno che però ci consentirebbe comunque di giocare nel nuovo stadio. Però comunque nella migliore delle ipotesi è sempre un anno almeno dall'inizio dei lavori. Quindi sicuramente nella prossima stagione non ci saranno cambiamenti. Al limite il nuovo stadio può essere inaugurato nel corso della stagione 2015-2016. Quindi verrebbe proprio fatto al Poggino dove è adesso che giocano le giovanili del Ponzacco? Sì, l'obiettivo diciamo di tutte le forze politiche è di fare una cittadella dello sport. È previsto non solo la piscina e un bar e un ristorante ma proprio la possibilità di avere oltre allo stadio a norma per la Serie C due campi di calcio a 11 e tre o quattro campi di calcio a 5 con anche la possibilità di raddoppiare la capienza delle Melorie, cioè fare il secondo campo alle Melorie in modo da poter fare la scuola calcio tutta laggiù nella frazione Ponzacchina. Per concludere possiamo dire progetti in grande anche sotto questo punto di vista oltre che la squadra che sta contando questa cavalcata verso la Serie D. Sì, io credo che la squadra più di così non può fare. Sta dominando il campionato, sicuramente siamo a cominciare dal Presidente Donati ambiziosi anche per la Serie D. Non faremo un campionato certamente per la salvezza un altro anno. L'amministrazione comunale ci sta venendo dietro e si sta seriamente attrezzando per fare non solo lo stadio ma un centro sportivo che consenta anche di avere le giovanili di qualità e di anche quantità perché poi è importante avere un bel bacino di utenza.